Cominciamo! Perché ho un seme nell'inventario? Soprattutto perché non c'erano abilitate le shaders, ora va meglio. Adesso voglio fare una marachella, ragazzi. Metterò un seme nella fornace. Ah, la marachella del sus. Ora voglio fare un'altra super marachella, ragazzi. Ah, la marachella suprema, ragazzi. Diamo un po', adesso rimango un po' connesso con... Doc! Vuoi fare le idee, Terlet? Magari mi impediscono di andare a col paese. Dimmi! Aspetta un attimo perché Minecraft... Guardi, ho creato una tia al contrario. Bello! Eh sì, bellissimo. Le tia al contrario mi piacciono, dò. Vuoi andare a dormire così almeno evitiamo di... Non voglio fare come l'altro gioco... Ah, vabbè. Se dormi nel letto di Andre, non si apro. Ok, hai dormito nel letto giusto. No, voglio andare fino a casa. Ma come? Scansa fatiche di merda. Adesso mi chiudo nella sottina. Non fa fatiche. Comunque io non voglio usare l'armor in dia. Cioè me l'ha data Tommy, però non è nemmeno roba mia. La userò, va bene. Ma bruciamo Tommy direttamente? Sì, sì. Vieni che prendiamo un po' di legno. Poi andiamo in miniera come mi avevi chiesto e come avevo anche l'intenzione di fare. Io intanto ho sciolto l'entrata del log. Io ne ho trenta, però vorrei togliere sta roba. Vorrei togliere sto scempio di albero che è rimasto qua. Sì. Doc, mi aiuti a toglierlo. Qua c'è un tronco. Ah, Doc, io ho raccimolato un bel po' di cose. Tipo? Trenta due cani da zucca. Wow! Le piantiamo. Vorrei cercare di capire dove sono rimasti i log di legno per togliere l'albero. Minecraft mi ha abbassato un pelo. Ecco, ma meglio. Ma meglio per stocca... Doc? No. Ma lei le patate le vende ancora? Dipende. A quanti euro? Visto che lei vive in Italia, io no. Sessanta... Dieci. E vorrei abbassare... Ah, ma perché c'è il volume a cento. Facciamo a settantacinque? Già meglio. Vocca. Ma l'altro è stato risucchiato in un buco dei... Sì, nel buco dei... Parli del diavolo, sputerò. Ah, ma è vero, l'avevo mutato. Scusa, Tommy. Eh, l'avevo mutato, però... Molto male. Tommy, puoi, per favore... Grazie. Per una volta si è mutato, ragazzi. Penso che non l'abbia mai premuto in tutta la sua vita. Oh, sono usciti. Grazie. E ha detto... Ho fatto il stampone, mo. Lampone se sei positivo Bla 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 La feneta Devo spengere, è vero Luca? Sì Se vuoi puoi farlo Spengiti tutto Ti spencio io Tommy, hai visto che ho creato una tia al contrario? Cosa è? Sopra casa tua Ho creato una tia al contrario, sono un artista Un attimo che sta caricando le librerie, poverino Ti stai in giro No, 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 ti stai caricando le librerie, è diverso Loading libraries Devo mettere la mia text No, no, vabbè No, adesso è una tragedia, esploderà l'universo Vok, vengo un attimo a casa mia Ci sono già Dov'è Vok? Vok sta affaffiendo col mio Che bella scena Tu che scendi Che bella è fornata Oh no, non è bella, non è bella Non è bella Aspetta che Così fa meglio il suo lavoro C'ha proprio il naso dentro Non lo so, verrà più tardi forse Tocca, guardi cosa fa il suo cane Le marachelle Hai ancora il cartello con scritto Piselli sudati che ti ho messo Ma terror Farà come l'altra stagione Che è entrato una volta e poi non è entrato più E poi non entra Bastanza Ah Doc Chissà cos'è che mi tiene su bello dritto Ehm Sono di socio Che bella serie di me Che bella serie di me Fidarsi a bene Non fidarsi a me Ragazzi io Ragazzi questa farm è estremamente efficiente Questa? Doc ma lo sa che io so volare Ah la farm che ho fatto? Nooo Mega efficiente Doc che peccato Questo non è rotto come l'altro Se ti rompi i blocchi sotto il sedere Non rimani volante Peccato Tengo un po' di farina Uh la farina Prego un po' di pesce secco Ci sono da ripiantare le canne Doc ora faccio io di più Di pesce secco La skinny fortnight Doc mi diamo un secondo Che adesso si va in miniera Devo fare un po' di cibo In miniera il cibo Si va in miniera Intanto faccio un po' di cibo Io ho preso un bel po' di canne da zucca Ti devo pagare Ti devo pagare Luca Lui è quello delle finanze Viene lì Ti dai soldi Comunque basta Non credo che farmerò più cibo per voi Oh come? Ma se te l'ho dato io il cibo imbecille Va bene Quando avrò Però devi Ah guarda Ti vuoi tanto cibo Trova Trovo una patata Io ti do tanto C'è ragazzi Su 11 blocchi di flint 3 mi hanno dato Cioè che culo c'ho oggi Piccolo È sempre lo stesso È sempre lo stesso Però è secco Vai Dai Eh beccato Aspettate scrivo velocemente ad Andre Allora scriviamo ad Andre Vieni o ti apro il E comunque non ho capito perché hai messo Come sono gentile Quando in realtà l'ho fatto prima Io e soprattutto io sono Però era già staff Cioè Era già il mio modo di twitch invece Mettiti qui Mettiti qui Il bello è che se vado Aspetta così non sono rotto O no No se vado in F5 mi vedo con l'armor rotto tutto Così ti ho avuto Che bella cosa Allora Ciancio alle bande Ma quelle di GTA Cianciando le bambade Vabbè io di cibo ci sono Mi cuoccio questi 12 se al mondo Io mi ricordo ancora su Minecraft Bedrock Edition Che Venga d'occhio le faccio capire cosa è che succedeva Su Minecraft Bedrock Venga qua Se tu Se tu piazzavi o toglievi Cambiava la quantità d'acqua in un blocco Ti si toglievano le canne da zucchero sulla Bedrock Invece ingelavano In che senso Non ha senso sta roba Sulla Bedrock Edition Se tu hai una fonte di acqua Che ti fa crescere le canne da zucchero Se tu quel blocco d'acqua Scavi un blocco a fianco Così che l'acqua scorre per otto blocchi E dici posso piantare più canne da zucchero Sì però appena il blocco si trasforma Ti si togliono le canne le devi ripiantarti Bello Bello Il motivo per cui sono passato alla Java Solo per quello sono passato alla Java Ah Solo per quello No scherzando In verità io sono stupido Ho comprato la Bedrock Perché pensavo fosse l'unica versione di Minecraft Ma sei anni fa Cioè puoi capire Io pensavo che La versione della computer Avesse i tubi No all'inizio avevo Bedrock su iPad E poi ho comprato Io pensavo che la versione Bedrock Era quella che aveva i tubi Cioè ad esempio la Buildcraft La mod Che ho visto Ecco io dicevo Oh bello Quella da PC Ai tubi Ai tubi E poi Non sapevo usare Google Quindi ho trovato già Ho trovato Minecraft Solo su Bello 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 Onesto Cioè bellissimo Doc andiamo in miniera E mi fai finire di pochere Guarda che bella casa mia Tutututututu Guardi Doc Faccio una magia Scompaio eh Salto e scompaio Hai visto Sono scomparso Doc Appariffi in truffca No No vai via Io ricordavo Andrea lo diceva con No da mass Puntini puntini Andrea faceva così Scatusca Quella etrusca Doc Lei è sicuro di essere Ready Re Addi Dormite per favore Dormite please 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 Ragazzi Sta ritornando La morte del wifi No Cioè sì Almeno ti levi dal cazzo No No poverino Ma Mi sono troppo Prova a cambiare Andre Vediamo un po' Aspettate Ari Niente Andre Andre Discord esplosa Ci mette tre ore A connetersi sul server Vabbò No Ci eri vicino però Quando Quando ho detto cosa però E' l'ultimo Andiamo in miniera please 110 120 128 Non ho la Optifine Quindi non ho Dilluminazione Quindi Quanto? Eh? Quanto Quanti sono? Qualcuno ha delle torce Vero? Doc si dorme Ehm Fammi Torce Se no non si vede un cazzo Stai ritornando di sopra Orca Ma tu hai pelle? Ha laggato il server E sono esploso Sì ma mi serve Ma che tu hai pelle? Eh ma dico per adesso Ci facciamo un chanting table comune Eh sì infatti faremo tutto comune Imbecille Ah Chiaro che la faremo come un enchante E allora mi dai tutta la pelle No la mia mia Me la tengo io se mi serve per qualcosa E scusa eh Dovevo fare le librerie Eh le fai con i casi tuoi Se ti fai diamanti Potrai pur cercare un po' di pelle Dai Io c'ho un po' di pelle Ma vorrei farmi un enchanting mio Eh dai per l'inizio No Non vengo pagato abbastanza Sì penso che anch'io voi ne farò una da solo Però non adesso Doc andiamo Doc Si è allungato o sbaglio Andiamo Ah la patata No magari fosse quella Perché con la farm che io Sarebbe utilissimo verle Sì però io ho bisogno Perché ci sono di se Carbone E li ho messi io Sono quelli che ho iniziato tu Tom quasi semi Hai del carbone per favore Sì 30 Se no non si vede niente in live Ho bisogno di craftare un po' di torce Io sì ne ho 41 Solo 5 Dai l'Optifine No sono con fabbriche imbecille Mi serve il carbone non le torce Però me lo ridai un po' di carbone Però me lo ridai un po' di carbone eh Luca fai schifo se è un tirchio Tova Te Luca fai schifo se è un tirchio Ah doc Bisogna fare una cosa Luca lo sai che sei tirchio Allora bisogna fare Tommy lo sai che hai rotto il canto La farm infinita di Bamba Ehm Scorre di giù Di tappeti Allora La c'è un'avviare Ok la c'è l'avviare Ci erano rotti led un'opo Dicevo la c'è un'avviare Ci serve E vabbè Doc esploso di nuovo Esploso il wifi del Doc Di nuovo? Sì Devo pensare a una cosa Che devo fare una cosa Però mi sono destinato Doc guardi un po' Mi brucio Ah Brucia il culo Che bel Ragazzi Ho fatto il waypoint Stai a prendere il dono da lì La slab è sopra Marty Eh No No Mi devo mettere a filo bene Per fare questa cosa Possiamo dare miniera? Aspetta Ok Doc mi brucia il pipo Guardi un po' Il nostro profilo italiano Guarda che pipo lungo Arriva fino al tollo Visto Sono la torcia Il pipo umano Ma che cazzo Guardinate No ma Screggine Dai un pugno forte Si fixano Ok Gli ho fixati Perché c'è una curva Che si rompono Doc ha visto Qualcuno mi può dare le coordinate No No Si Te le vai riguardare dalle vecchie live Grazie Ah Doc andiamo Aspetta perché là c'era un canyon Aspetta facciamo una barca no? Ma neanche Cioè ti fai tirare giù dalla barca Beh Qua? Non c'è nulla No qua si va giù C'è pure il magma Perfetto Possiamo sfruttare Ok ne ho abbastanza Eh io ne ho pochissimo Il coal Qua devo ricordarmi che c'è il coal Te l'ho dato Lo sai dove si spunta? Doc si spunta nel fiume Mi puoi dare le coordinate Per favore Ma si era rotto il magma Di qua si spunta dal fiume Non ci conviene andare avanti Dai Aspetta aspetta Io soffro Porca di quell'altro Dai ma Ti ho messo il blocco Mi hai fatto prendere più danno di prima Dove andiamo? Io direi di qua Andiamo Dove sei andato? Sono qua Questo è proprio il mio Non lo so Dock mio Se facciamo scalamuro Tutto il giorno Lava muro Lava muro ragazzi Carbo Carbo Bob Carbone Bob Doc Carbone Ma questo Quanto profondo Eh urca Ma lei piacciono le cose profonde Però mi sembra uno schifo Urca Io sto scavando quel carbone O no Vai scavizziamo Schiavizziamo il carbone Ma io non vedo nulla In questa camera Mi sembra piuttosto schifosa Si Si vede di più Senza le shaders Faccio a prendere Oh dei lapis E me hai rifatto i materiali 3D Perché sono un po' meglio adesso Lo hai rifatti Si mi sa che li hai rifatti Nella livello 3 Sono leggermente diversi Più variegati Abort mission Qua ci siamo già stati C'è una crafting Una porta Beh io non sono andato In miniera Quindi c'è stato Tommy Probabilmente Devo rompere quel blocco Eh che c'è Posso prendere la tua pelle Così inizio a fare le brie Per tutti Dai Non esistere Non rompere Ma Il tuo problema Devi capire quando è no E no E sei tu la noia Tu sei una Sei una vacca tu Ah poi è una vacca Che sta facendo Doc Sta sturando qualcuno Ma è il mercante scorreggiante Ci stava Siamo ancora troppo vicini Ti piccono No Là c'è il deserto Dov'è? Là Doc Mi diamo un secolo Possiamo ripassare al volo da casa Dov'è casa? Ah no No io vado di qua Potrei Ah te vai Ma non a dare troppo lontano Forse ho visto delle cose Prendo solo gli attrezzi in diamante Troppi messaggi scrive Ah no Mi sembrava ci fosse una bella cosa Ma Che cosa Sembrava di aver visto un dungeon Qualcosa Invece no Allora Qua si scende abbastanza Ah Doc Questa ordina Io sono sceso in una caverna subacquea Direi che Mi fermo qua Doc Mi dia un attimo Sto Zero Aspetta Aspetta M Un attimo Ci posso fare? Ok vai Dammi le coordinate Devo dare una caverna Zero Dieci Tre sette cinque Meno tre sette cinque O tre sette cinque Meno tre sette cinque Mai in shaft Si Ok Sto on crash È proprio Zero come Zero come z Y No no Y zero No Y Y10 15 Meno settecent Trecento Settantacinque Si Trovato Se hai duecento metri Ah è corretto Sai come ho fatto? Ho usato la mod Dei waypoint E Ho messo waypoint a caso E poi Ho messo le coordinate Che mi ha dato No vabbè Lui è intelligente Ragazzi Aiuto No no davvero Da adesso in poi faccio così È troppo comodo Per trovarti Dato che te parti Oh ma Pino di ragni Dov'è? Eccolo qua A dieci eh Sì più o meno Si ha rifatto i minerali Sono un po' più carini Potete uscire che dormo? No Nine Come tu facevi Adesso attaccare tu cazzo Ma scusa Ma io sono uscito Le altre volte non uscivi mai Dicevi ah stanotte la dobbiamo vivere La notte si vive e non si crepa ragazzi Da quando? Io non lo so Io però prima sono uscito Cavoli tuoi Sdocca Tanto se non esce nessuno dei due Non è che cambia tanto Se esce uno Sdocca Sì? Dove potrebbe stare lei? In culonia Perché parte è andato? Sono nella mineshaft Eh allora Dovresti trovare un punto dove c'è un blocco di cobblestone Sali lì Sì che vuol dire? Passo di lì Sali con Scavi lì e sali su Ah trovo Dovresti trovare una bella scia di torce Ok seguo le torce Sì Allora ti ho rubato 18 di carbone Tieni 18 di carbone Bene Così non ho debiti col doc Allora Togge i waypoint No davvero da adesso Poi faccio così Suss Vuoi chi è che mi ha rubato la mia pelle? Ah non lo so io Nessuno Io mi ricordavo di averne 15 marti eh Che senso Non ti ho toccato niente zio No Tommy l'hai persa a te Sei un polione Era nella cesta Vabbè Probabile che ve la sia Siamo stati entrambi Prima siamo stati a casa Di marti Poi Siamo Siamo andati a casa mia Quindi nessuno No il processo non l'ho toccata Puoi guardare la live se vuoi Casa mia No non è una casa Ah dal tuo accampamento abusivo Sì Mi fa Casa Allora Accampamento abusivo Come lo devo chiamare Non so Hashtag Siamo in un'altezza Qua esagerata Io direi di scendere un po' Tipo qua Do che le faccio il regalo Guardi Il regalo Sì guardi che magia Allora Guardi Hai visto Sì è proprio Eh visto Ogni volta che appiazzi un blocco di cobblestone Spunto 11 di ferro No vabbè Vieni qua Prova Vediamo Vediamo Eh non va più No è spuntato Vabbè Sì però Adesso mi serve L'ho scavato tutto io Grazie Andiamo Io ho finito il ferro Hai secchi d'acqua Uno so Vabbè Belli miei rumori Ah c'è dell'acqua Si scappa Finalmente sono ancora 25 livelli Si scappa Che vuoi Tommy? Il Tom vuole Tomare No ho detto Finalmente ho ancora 25 livelli Ancora Eh visto che qualcuno Un'altra volta mi aveva ammazzato L'ammassatore supremo Signori l'ammassatore Un ammasso di massi Quello che ammassa L'ammassatore Esatto Water bucket super lgb Voglio spostare la chat Ma non so bene dove metterla Tipo qua in a In testa Sì in testa Me la metto la chat Va bene dai Vabbè Redstone Si Ed ecco qui che si fa Qua sotto Vabbè tanto c'era l'acqua Possibile che non ci sia nemmeno un diamante Do che sono sprofondato No Era bellissimo Tanto ci serve l'ossidiana Quindi prendiamola Ho preso io già Quanta Delisa questa Se io facessi Quanta mi hai presa Quattro per Le cento in tempo Ma ci serve anche per il port Eh Quindi prendetela per il port Vabbè C'è l'ho Si è bruciata L'ossidiana che si brucia Mettendola nella lava Però si crea con la lava Il secchio Cioè tu lo butti dentro Cioè con il secchio Raccogli la lava Però se lo butti dentro la lava Si brucia Si Non ha senso Non ha senso Si chiama Minecraft Esatto Minecraft 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 Si lascia però un puntino di luce Ma fai sul serio il portale così E Ma non lo fare il portale Mica andiamo nel nether Ah non lo so io Dobbiamo solo prendere l'ossidiana Per fare il portale Il bello è che non lo so neanche fare Quindi Quanta ne hai? E io ho 0 Ma raccoglila E prima Io ne ho 6 Quindi 4 per l'enchanting table in futuro Beh effettivamente Magari lo acciolo a Tommy No Io quanto ne prendiamo per portale? Facciamo un portale Hai rotto di rubare Normale Chi è che ti ha rubato? Ma vai nether Non mi ricordo se è abilitato Non penso Per un qualcuno che vuole sempre andare avanti Eh senti Non è che possiamo perdere il tempo Ma lui è CiccioGamer69 Lui è speedrunnato anche a mare Lui si speedrunn anche Anche quando va a trottole Lui cioè è quello che finisce prima Oh Oh mi ero rotto un attimo Doc ma lei si sta bruciando le palle da solo Sì io sto laggando nel fare il portale Proprio il mio cervello non riesce a calcolare i file Hai tanti neuroni ma non le sinapsi Eh no Allora 14 Me ne servono altre 6 Il portale del led lo facciamo un unico Sì Quanto ossidiana hai? Uno Eh? Uno E prendine non lo so 4 Guarda che faccio Così almeno ti puoi fare la tua incendi Sì lo so 17 me ne mancano 3 Doc Sì Mi può regalare uno di flint in cambio Deve ma solo Sì volentieri Voglio solo provare Lo butto qua Cosa? Qua dentro lo butto la flint No no qui 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 Diamo un po' No ma penso sia disabilitato Lo spenge lui Diamo un po' Il nether non nether Sì funziona Sì? Dici di sì Cos'è detto? Anche se è disattivato si accende lo stesso No mi sa che Doc non va È rip Vabbè sfruttiamo l'ossidiana Ma te la raccogli te Io ne ho 19 Me ne prendo ancora un pezzettino e poi basta Ma tanto sfrutteremo Tommy per farlo portare le domande qui Giusto? Sì 13 E dai ti sfruttiamo Ti chiediamo se puoi fare il portale grande giga enorme Ti obblighiamo a fare il portale di giga enorme Perché lo dovrei fare io soltanto perché sono la più brava a buildare? No Dettagli No perché No perché Noi Allora noi la decoriamo Allora molto semplice Noi la decoriamo Te vai a prendere uno stack d'ossidiana Ma il portale l'ho già preso io Luca fa pena la tua casa nel tuo server Non c'è dettagli Beh io ti ho fatto una bella T al contrario sulla tua Tommy Ehm No niente Doc lei sta scappando Lei è un messicano Oh Oh dove sei? Sono andato in Messico Sono messicano Il Messico è bello Il più bello dell'America Più Proprio in Messico ho imparato a fare questo Venga qua Facciami bene Mi fumo il pippo E E io faccio questo Siamo soli Adesso puoi fare No no Allora vai Vada No Ma Puri i pantaloni ti sei tolto Me l'hanno insegnato in Messico Poldo Sei nudo Lui si chiama Poldo Wow c'è tanta roba qua Ah com'è che Tommy trova così tanti diamanti e noi Perché voi siete sfigati Ah bello Sì sì In realtà ci ha messo un'ora solo per trovare Mezzo staff Il primo episodio Ma io poi vado Ma voi siete vicini a casa? No Non lo so Dico vi siete No dico per scavare vi siete allontanati tanto Siamo a 292 blocchi Vabbè ma io vado tipo 1500-2000 blocchi di install Eh ma doc qua non si trova niente Vabbè diciamo che va bene così Oh waterbuck Però Redstone A me serve di avere un bel po' di redstone Perché la mia entrata sarà tutta La fornace è da fixare invece dai Perché è un po' rotta Io voglio fare la fornace automatica Ah quella Vediamo se la saprei fare Io ci farei Ma anche con il combustibile infinito Ah vabbè i tappeti Eppure Vabbè ci metti se dentro Quando canti mi fai Doc Ciao Penso che non utilizzerò l'armory in dia Ma te vedi una cosa Non la vuoi sprecare Non ho nemmeno i pantaloni doc Ah io lo posso fare perché Ho il logo di Twitch Quindi posso fare le cose sus No Dietro la skin Cacchio serio è quello là Perché stiamo letteralmente Non l'ho nemmeno buttato L'ho lasciato sul ciglio della lava Beh oddio Eh doc è crashato Tu hai finito il casino Tommy Almeno per stasera no No Non ho iniziato Faccio un po' di coso Oh io farò un po' di veicoli Stasera Se funziona GTA signore Tommy vedere Fai vedere le fornaci marti Di lato Eh sono un po' rotte Tommy Ma lo sai che io ho fatto 3 milioni in 3 giorni In? In 2 ore Bravo complimenti Doc però se dice così Io dopo vado a tirar fuori Tutte le cose Se gli hai givati Non è vero In realtà non è vero Beh anche a me è capitato di farlo Ogni tanto Diciamo In realtà non è vero Su alcuni account Non sono givati No No Ti pare? Vabbè È molto meglio di Tommy Col mod Il menu Non so chi è peggio di noi Nei final moments di GTA Tu dici che per tamerti Sto io Così sei bruciato Dai via Dai a loro Ti spegno e poi dopo Ah ho capito Mi sono spento Però mi vado a rispegnere Perché io Io sono intelligente Mi chiamo Luca Peccato che non c'è mai nessuno in chat C'erebbe un po' Ho appena scritto una persona in chat No vabbè Proprio lui Aspettita Tieni Grazie Non lo so Ci devi i calamari E infatti ne avevo bisogno Faccia al bagno No Ok è vivo Che bella Che finisce di cuocere le Sono tartufi La fornace La fornace Ok Non si ricorda Sono tartufi Penso di no Toc Se lo ricorda Lei è vero Che cos'è Aspetta Oh no Oh no Stappa Aiuto Pipo in fiamme Ok Possiamo andare Questa è una cosa Torniamo su Sai cosa potremmo fare Potremmo farla Vediamo un po' che advancement Possiamo sbloccare Ok Facciamo un mega pipo Questa Dita Mamma mia L'ossidiana Dovrei sbloccare No Trovaci Che ti ammazzo Anzi Quando è niente a terra Che si fa a casa sua No preferisco che Smetti di urlare nel microfono Poi ti ascolto L'ossidiana Non ti ascolto Va bene Rip Bene Doc ha un arco Una freccia da tirarmi Povero pipistrello No No Comunque no 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 Noi dobbiamo risalire da lì Eh Eh Sì Aspetta lo so io Lo so io Signori Butterfly 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 Fatto State ascoltando Un Ah ho capito adesso Seriale Eh l'affreddamento al liquido Mi serve l'advancement Oh perfetto Adesso crepa stronti Che crudeltà Dio mio non si vede niente Eh non eravamo di là Dall'altra parte Aspetta che Lapislusuli Eh sì Ahia Dove sei Doc andiamo Ha fatto il water bucket Senza acqua Allora Guardate se c'è C'è le torce Allora io sono arrivato Da qua No Segui le torce Ah no aspetta C'ho il your waypoint Bru Bru Di là Io voglio seguirle torce Va bene Andiamo dove dici te Penso di essere Sare venuto da lì sopra Va bene Oh Salto super Wow Andiamo C'è aria di fino tagliato Buono Bello fresco Vero Non si vede un casso Lo stai in culo Perché io non ho spazio No in realtà no Perché c'ho sempre i miei sei Sei scimo Ormai Eh mi sa che dobbiamo sì Risalire da quella parte lì Perché 9 per 3 27 Più No vabbè lui sa contare ragazzi 4 Vacca Gagare Quindi è la vacca Non muto solo per me Perché Quando torna me lo dirà Ferro Docco Ferro Se fai una infile la posso usare Ho detto che ti ho la casa Tu la faccio No Perché l'ho scavato Do solo il ferro Ok Allora io scavo te Oh Del ferro Guarda Doc c'è del ferro C'è del ferro con delle gambe T'ho T'ho Fortizzato Io ho tirato Ho ritirato Lascia Lasciami stare Hai accettato la richiesta Di essere portato via Ho detto lasciami Lascia Lascia Mi stare Allora Andiamo Senti qua Di qua Di qua Vieni Andiamo Andiamo Ah ecco la mineshaft Oh Bru Esploriamo Cosa c'è Dove si Doc Deve smutare Certo aiutami Ti sento Ti sento E' lì Ah Mi hai mutato Adesso no Qualcuno ti fa Per caso Della clay Vai Nel Non ne viene un pezzo Oh Vieni a c'è il zombie Lo porto dentro A casa di marty Ma perché Non dentro casa mia Non mi interessa Non lo porti dentro casa mia Mamma mia Non voglio avere Conquiti Mi sa che non lo porto più C'ho già Andrei Figurati se ho un'altra persona Creeper te lo fa esplodere Dentro al cu O no Lo uccide Il Doc picchiato dal mini zombie Il mini zombie bullizza il Doc Pluff Il Doc Doc Porca put***a Sei vivo? Sì Io sì perché ho usato lo scudo Il Doc è riesploso La connessione Che bello Un 2x3 esploda Perché Dizi questo Perché è vero Perché esplodi Non so che dirti Carbone Mi sembra che sia più stabile wifi però Allora usa il wifi e non l'ethernet Vai proviamo a risalire da qualche parte qua Non lo so Torna alla mineshaft No Ok il wifi Vai no Doc Se non le dispiace io mi avvio verso casa eh Ma io la sto cercando Sto cercando un'uscita Torna dove eri prima che c'è un buco dell'acqua Ma io farei così Scavo un bucato Scusa eh Vieni con me che ti porto Altro Vieni con me che c'è un buco dell'acqua Vieni con me che c'è un buco dell'acqua Ti ho detto sto salendo Non vedo niente ma sto salendo Bra Ti sei bravo a salare le persone Buon me Mi dà fastidio che ci sia un blocco così quindi Mettiamo la terra No aspetta Andiamo verso casa Casa No casa era Che coordinate era casa? La x era positiva? Sì Buon appena posto Aiuto Aia Ho finito voglia Lascia questa la finestra Tommy No Tommy apri con la finestra Ti spacco la faccia Con il tuo pezzo di mer** E un pezzo di c***a Ah doc mi sono ricordato adesso Che le devi censurare Senza emozioni oggi Io sono a casa Videm Ah ma ti ho davanti Non me ne sono accorto Eramo paralleli Però non ce ne siamo qua Il parallelepipedo Pippa Mi sono paura Che è quell'aborto lì? Che è sta roba? È una mer**a Buonasera Buonasera No 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 Non vi ammazzo Come lo Io non ho fatto niente Io non ho fatto niente E allora mi fai riprendere tutto il legno a l'ighiera No in verità ho fatto anch'io Doc andiamo via Andiamo via doc Ma gli stai allagando il cervello Che cosa succede che si blocca? No io l'ho muta perché mi ha rotto le palme Aiuto doc Mi vuole in cuc Ci sculaccia lui Lui ci sculaccia Così non mi vede Aiuto Voglio l'acqua Non ho l'acqua Che palle D'avventa gli tiro un'asciata E io gli tiro qualcos'altro Che cazzo Dommi come è stato Dammi fuoco Adesso ti estingo Ma il Tommy non mi vuole mai male Ti estingo Hai capito? Sono quello che ha fatto più danno E non mi fa niente Vabbè Bello Che bello Tommy non mi fa niente E fomi e fumo Oh no Aiuto Io me ne scappo Non so che fare Però io Così Aiuto Scappa Ma non ho capito perché a me non fai mai niente Che c'è? No Tommy non riniziamo Basta Aiuto Adesso tu mi riprendi tutto il legno No Io non ce ho voglia No non te Lui Perché è solo lui? Io ho fatto più casino di lui Basta Non mi mandare a terra che non ho voglia Sei marti Lui è all'Ikea E quindi cosa cambia? Boh Sei diverso Oh la lava Perché è sempre dentro casa mia? Madre portinaia Stai giù Resta giù Ho messo l'acqua È colpa tua Madre portinaia Dammi volontà Dai andiamo Eh Guarda che ti dà fuoco a casa Aia Stru Aiuto Brucia casa Forse No Tommy se mi tocchi casa No Non potete uscire da casa mia? Ti ha dato fuoco lui Ti ha dato fuoco lui Fuori da casa mia Fuori da casa mia Ti ha dato fuoco Oh Sì io sono stato Ti faccio sospendere Cioè se vieni atterrato Adesso mi riprendi pure il legno È sempre qua il legno però Cosa facciamo? Un'operazione Facciamo un'operazione di carenza Che sto qua? Doniamo anche noi al 60 No Tommy No dai Oh io te ne ho fatto poco Ops Poco Aia Anche noi ha questo numero Per dargli un po' di legno Mi uccidete Oh basta È stato scortessato Brutto Non si è sicurato Aspetti Venghi C'è dietro il legno C'è i log Non posso prenderli Sono già pieno E non lo so Butta qualcosa Dovrei andare giusto Per casa Sì E allora È giusto Guarda a te sto figlio Ha pure buona era Scusa Tommy Pianti i pali In mezzo a nulla I pali I pali I pali non ti dico dove li prendi te Uh Anch'io Anch'io Tommy Ti prego Io prendo i pali con le ragazze Magari le dell'appel L'appel La madonna Chi è che ha ruggito Chi è che ha scorrociato Io 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 Vado al maiale Hai fatto il porno Chifo Che buono che è il Mcdonald Che cazzo sta succedendo stasera C'è la slash ec No Non funziona Bru Non funzionava Io vado via Ok Allora la mia ossidiana Fietato rubare Signore Per favore Nessuno si rubi Allora Dentro con questo posso rubare No mi sono buggato nella porta Il bug Ui 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 No mi devo ammettere che così è molto più bella Che questa tua Perché adesso ti picchio Eh Eh beh si finisce il lavoro Bosto Dai rimanevano solo due log Io mi lascio Niente Allora io vengo a distruggerti casa La stessa cosa Senti ieri mi sei stato dentro casa per più di un'ora con Luca Quindi non rompere le pallotte Ma ieri non abbiamo nemmeno fatto È l'ultima live Senti Io non so contare Lo hai capito no? Tu l'hai capito Dov'è Tommy? Anzi volevo dire E' sbagliato Dov'è Tonnaso? Dov'è tua madre quando serve? È già occupata con un'altra persona che conosco io Perché Tonnaso non torna? Compadre prima di farti nascere appena roffo No ragazzi Non si dico in certe cose dai Adesso ti becchio nascata Vabbè io metto un po' di lama qua Giusto Che cazzo Tututururututururutututututururututururututururututurutururututururuturutururut. Sus? Hahahaha. Dov'è tonnaso? Io vedo... Il tonno, rio. Conosci il tonno di Mosconi? L'hai visto quel video? Il tonno dio puntini puntini C'entra anche il tuo cane Il tonno con il naso Doc ma lei lo conosce? Hai imparato il coso Bene ce lo smetto promesso Che bene la cassa di Tommy Mezzo scorteggiato Che vuoi? Togliti Che sta facendo questo a casa mia? Ah non lo so io Oh te è buono E cosa vuoi? Dai basta non voglio andare a terra Basta Vai a terra Vai giù da terra ormai Stick Oh sì Mi piace così Non lo so Fa abbastanza schifo la tua casa Parla quello che non è ancora una Mamma mia Come è simpatico lui No perché per il tuo è proprio No lui è top simpatico E lui è un simpatico È mister sympathy Lui è mister sympathy Ho 52 stick di cui non me ne faccio un cazzo Doc posso Ha dei log che gli avanzano No perché probabilmente li utilizzerò per qualcosa Doc? Eh Dicevo hai dei log che ti avanzano Ti ho detto no perché li utilizzerò per qualcosa Eh lago Vabbè Lago zancudo Ma lago zancudo Mi prendo Tommy Allora Tommy posso prendere questo? No Basta hai rotto Devo capire se è legno buono Ok Se è un guercia No Dai ma scusa Vabbè vado qua per scherzare e te mi dè fuoco Ma perché hai rotto? Perché tu adesso me li scortecci Ma che te lo scortecci Se li trovi scortecciati Lui li ricorteccia Li ricorteccia ragazzi Potreste dormire o quintare? No Dai Come mi hai detto tu prima E io picchio cose Che cazzo vuol dire? Ma che belli questi Perché sono invisibili? Perché sono invisibili gli ati Non sono invisibili imbecille Sei tu che li vedi invisibili Fuori? Un attimo Fuori Guarda Guarda la discord Ah discord Sì Bro ma sono invisibili Probabilmente è la texture di Eren Non è di Eren È la mia Cioè sì È fatta con il Sus Tonnaso Il naso di Tommy Sta buono Sta buono BORGO DI Tommy Uccidili Che sta facendo esplodere le cose? No Chi sarà mai Secondo me non è tonnaso Per me è tornare È un tonno con il naso Secondo me Sì Buona madre Lighe No Tommy Bassati meno eh Ma stai zitto Ma cosa vuoi? Ma guarda Sembra una groviera a sto posto La groviera ragazzi Ti stai zitto che hai fatti esplodere te Ma cosa cazzo Che cosa fai? Ti fumi Troppe cose Tante Le cose sono tante milioni Di milioni Tommy mangiai coglioni Sì E volevi Ma la smettete di esplodere Tutta la nostra zona Doc Se tu c'è meglio Sono dentro casa mia Nel caso Si è interessato Ma quale casa Che sei più povero Ah ho un bunker Si gioca Ne Che zizio Mica sono povero Ti hai quattro pali Piantati nel terreno Io nel c***o Non è casa E lui arriva quello che Che neanche ha dei pali Che un po' Ma che a poco Gli escort C'è anche quelli Si può dormire Tommy Un attimo Donnaso 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 Non impegnato Non lo invio più Avete ragione Però posso Donnaso Donnaso Dormi Tanto c'è Marti Che non dormi E allora Che ci posso fare? Ciucce Donnaso No 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 C'è 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 Pirdamelo Su Sto 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 Bravo Tommy Ti ha riparato la zona Almeno Si ma Tommy Non sa combattere Proprio zero Ha dei problemi Seri Intanto io gli ho tirato Una sciatta Vabbè Dormiamo sì o no Doc Le 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 prende un po' Di coltivazioni Che sono a corto Di cibo Basta che mi chiede Eh manco chiedere È mia È di to Cioè di tutti Scusa Io Io Sul server Mi prendo tutto C'è proprio Perché poi Lo sai quando L'abbiamo piantata Queste Tipo dieci minuti fa Che c'è in fretta Probabilmente Al txp Da alto Merda Or cazzozza Per fortuna Che l'ho visto No 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 Scappata grossa C'è già il mio È tuo Tutto 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 Eh papi Ma chi cazzo c'entra Eh Tutto 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 Eh papi Ha ragione Guarda Per quella volta Che ha ragione Poverino Spi Papi Secondo me E' buon fare In venerdì Si fa tipo 60% Microonde Ma proprio micro È proprio piccolo No davvero Un giorno Si porta più avanti Microonde E l'altro Si fa più giochi Eh sapete una cosa Tra poco andiamo su GTS Sto guardando 5-10 5-10 minuti Ci andiamo Sì Sì Sus Peppa Peppa Pip Cresciuto Pip Adesso Pippo Ma Cosa Io nemmeno Io nemmeno Io sono agli alberi Tonnaso Ma io sono agli alberi Cosa vuoi da me Che Che cacca Che cacca Scramatica No mi sono rotto La casa da solo Scortecciato Un pezzo No facciamo un po' Di scia mortale Io devo fare i colpi Poi fai quello che vuoi te Eh fai da soli i colpi No ci sono anch'io Esatto No chiedevo Tu vuoi fare sempre solo scia mortale Che cacchio Fatela da solo Eh dai ragazzi dormi Va bene Allora Semi Semi seco Eh no ragazzi Che stai facendo Che dici? Fuori da casa mia Come ti permetti Ah guarda Guarda Sissio Gamer 69 Vedi te questo mi ha Tommy che cazzo stai facendo Casa mia Sono stupro Questo Vieni qua Aspetta vengo anch'io Scappa finché sei in tempo Adesso ti avro il sedero No che facciamo Vieni qua Vola uccellino Aspetta Non l'ho preso bene Anch'io Uccellino vieni qua che ti faccio volare Ho tre cuori Ho tre cuori Ho tre cuori Che io so correre Sei di cosa Che vuoi una sedia in faccia Vabbè te la do No no Hai riuscito a scappare un po' No la coltivazione No Tommy ti ammazzo No ti ammazzo Io ti ammazzo Vieni qui Insuriamolo aspetta È mia coltivazione Anche mia Perché mi dà fastidio Quando rovina Ti ripianto In un posto Bello Te lo pianto Grazie doc Però non collascia Perché lei mi toglie Troppi cuori Aspetta Vediamo se riesco a rispingerti Non collascia C'ho pochi cuori Ti ho detto Tommy Non ci arrendiamo Finché non ve giù Almeno io non mi arrendo Finché non ve giù Oh raga però Se mi buttate giù Mi restate Ti buttiamo giù da monte Sì esatto No dai raga Seri C'ho 27 livelli No ma noi ci messiamo Wow È le casin tue Che fai i livelli Dai raga Basta Ma cosa c'è Lo sai Che pifone Uh doc Venga Guarda che bello No non guarda Così almeno Tommy Non può sapere Torniglia Doc ha un po' di sabbia Potrei fare una bella Tenete Tenete La foresta Lo sai cosa fa La tenete La 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 Sì 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 La 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 Ah ma un nuovo bioma qua dietro Per non avere le foglie colorate Basta togliere l'optifine Tommy Tommy Sai che cosa Tommy Tommy Che cosa hai in bocca È un palo È un palo È il mio di palo Eh È un palo No vengono La live è finita Eh La live è finita Aiuto Aiuto La live è finita Tommy Ti facciamo saltare in aria No la prossima volta che non si muta Lo tolgo Perché dai Perché dà fastidio sta roba Che non si muta Perché lui non è uno short cutter Cioè c'è lui Doc mi dica lei com'è bello il nuovo bioma Io devo Io lascio questa qua Ah ma te sei qua No però Bru Si brucia una foresta Eh Togli un albero Togli due tre alberi Oh no Doc sta succedendo Eh io te l'ho detto Doc mi aiuti a spegnere Ma cosa spegni Ormai è perduto No non è perduto Ah L'abbiamo salvato No L'abbiamo treppato È diverso Intendo la foresta Non Tommy Togliamo queste Sto raggio Beh se tanto io devo raccogliere la legna Quindi guardo No ma questo è ancora Vabbè questo qua brucia da solo Ma lascia stare Tanto Poi si spegne Ma questo cos'è Un mini albero Queste foglie qua Eh non lo so io No è carino però Che cos'è un mini albero Ma che cosa Ah questo Non ha un tronco Si chiama bug di generazione di michel Per minecraft lì ci dovrebbe essere Cioè Che bel gioco Lascia le foglie in aria Che Tra cinque minuti Benz Dai Tom Mi rientra No Dai Eh beh usciamo noi Non è che cambi tanto Vabbè allora doc Facciamo una cosa bella Però se ne deve andare Si deve vedere Doc vada via No no il muro Il muro Il muro ti Dai È dentro Dai raga togliete la lava Ma sai che semplicemente Aspettiamo che crepi Ti ressiamo Cioè Basta che non esci Perché se no ti bruciano le cose Voi non mi ressate Ma chi lo dice Questo sei te che non resti Appunto Vedi già abbiamo tolto la lava Non uscire Non uscire No non è Io Vi vedo laggare un po' eh Porca Eh raga sono un crepato È volato Doc Vieni a ciò Vabbè Aspetta Prima Se vuoi essere ressato Devi Vai Ressatevi Vi prego Prima devi fare Prima devi fare cose belle No dai che c'ho la tua tempo Dai Tommy non ti riusci Perché Boh Vabbè Se muore ti danno la caduta di nuovo Io non ho parole Oh ma qui c'è la lava Lei non assorbe Tommy corri Dove è andato Oh raga la mia Buona la mia Io torno a casa Tommy possiamo fare un pvp Solo io e te Solo per capire Se riesco a batterti con la arma Posso venire Aspettate Voglio vedere Solo per Non è per farti crepare Solo per vedere Se riesco a tencarti Aspettate Voglio vedere Dove siete Tornate a casa No io non uso lo scudo Non lo uso Cioè se vuoi possiamo chiusarlo Non è che un problema Vuoi scudo o no Solo ascia Siete a casa Sì siamo Sono a casa di Ogni secondo che passa Scortecci un legno No 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 C'è da dire che io Non ho nemmeno l'armor India però India Fatti lo scudo Aspettate Dai voglio vedere La battaglia epica Ce l'hai anche tu Oppure Te lo devo fare Cosa Fin c'era Tommy Che seri Chi è che mi ha rubato L'oro e il ferro Ah non lo so io Doc No Doc è stata lei perché Avevo 61 di ferro E 22 di ferro No è stato per forza Il doc Nelle mie cesse Nel mio inventario Non ho niente Doc Lei fa schifo Seri Potrei averti fatto Una caccia al tesoro No se non me le ridai Ti ammazzo E ti lascio La caccia al tesoro Una caccia al tesoro Dai che te le ridavo Cerca bene Non sapete quanto è che sono lì Da 20 minuti Ragazze Chi è che se le ciullate Ragà l'ho messa in una fornacce No adesso non ce l'ho Chi è che se le ciullate Sotto non è Ti senti non mangiava Ah Tommy Io ti faccio vedere il mio schermo Guarda Sono pulito Tommy Fermo Lo ammazzo io No no controlla Guarda 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 lo screen Tommy No Mi dovete ridare I schermo di ferro Ops Forse non dovevo scriverlo Ma te ridammi i miei 25 di carbone Non ce l'hai Di carbone Non erano 25 però vabbè Tommy Vedi che non ho niente di tuo Ti ho messo Ti ho preso l'oro E te l'ho messo Nelle fornaci Mio ferro Non ce l'abbiamo Vuoi vedere le mie c... Allora Io te l'ho messo Tutte le le fornaci Sì Io avevo 61 di ferro Non ce li ho Ti ho detto C'ho i miei pezzi di ferro Che ho qua sopra Questi c'ho Non ho nient'altro Solo questi qua Tommy vuoi controllare Nella mia c... Vuoi controllarle tutte Non è che cambia niente Lì che me li ridai Ma se non ce li ha Poverino Ma non ce li hai presi Ma se li ha messi lì C'è un motivo Ti giuro Nell'inventare Non ce li ho Te li ho messi Guarda caso Vengo sempre derubato io L'ho messi nelle fornaci Lo sospenderei Ma per chi? Ma l'ho messi nelle fornaci Doc Non è che c'è Guarda caso non ci son più Dai ma te l'ho messi Guarda caso A chi è che servivano... A chi è che serviva il ferro Guarda caso Non a me C'è il diametro A me però Mi sono già fatto l'armor Prima di venire Oh ma che vuoi Ehm... Tu... No Tommy Non ce li ho Io basta Non mi devi seguire Per fare i cavoli tuoni Mi dai l'idea Tutto il ferro che hai? Ah per... No no Tieni Ok Tieni Tutto il resto L'ho dato un po' Io non l'ho scavato nulla Ho qualcun altro In che senso Doc? L'ho dato a te Cioè ho apprezzo solo 11 di ferro Oh Eh faccio due scudi Sono miei Ma ti ho dato pure il diamante Non si tocca Oh Dammi il mio ferro Stross... Oh sì Ma ce l'ho già Ma allora sei scemo eh Ah li dà Ma tolte Dammi il ferro No Oh Ne avevo ven... Ah vabbè Per quando Ti verrò a rubare uno di ferro Prima o poi No sul serio Chi tocca dalle ceste Senza dire Ma io Allora Cioè dovrebbe essere punito Ma perché non ce l'ho io Giuro che l'ho messo Allora Da adesso in poi Chi tocca dalle ceste Più di tre volte Senza chiedere Cosa facciamo? Lo banniamo per Quando? Quanto? Un'ora o due Un'ora Quando Allora Quando lui ti stava Scortecciando il legno Quando ti stavamo Scortecciando il legno Il ca... No Io ti ho preso Io ti ho preso L'oro E le Fornaci Cioè l'oro E il ferro Te lo messi nelle fornaci Tocco ma non è che Ce li ha lei E lei che Non ce li ho Porca miseria Ti devo dire Io non ce li ho Non so più dove cercare Io c'ho la live Non mi esplodere Non mi esplodete casa Perché guardate che Oh raga per me Se è decaricato Allora Tommy Nelle mie ceste C'è visto Non c'è niente Niente Luca dormi Marti dormi Ma possiamo Quittare No dormi Poi quittiamo Però dormite Trascinate nelle fornaci Che devo dire Dormite o no? E manca soli Luca Doc Osscrivere Ok Tutto attaccato Cosa? Quello che avete scritto Marti apri la chat Ti ho prendi la tua zappa E mi E mi Ti puoi scrivere Con l'ho Tutto attaccato Però Tommy Sì A voglia Vieni con me Allora Tommy Prendi la zappa Ce l'hai Ara Quelle cose Poi me le pianto Anche da solo Non c'è niente Volevo solo vedere E' un bunker Così Fatto per Finchè non mi faccia Una casa seria Nel frattempo Accumulo materiali Perché lui è serio Signori Eeeh Lì Già Che stai facendo? Lì Il ciabatta Oh ciccio No Cos'è toccato? Niente Sentite rompere i blocchi Io non sto un pezzo di terra Mio Certo Vado a prendere la zappa E fuf Tanto Ma non è che C'è lui E vuole che io Lo rediamo noi Condivisione Tommy Condivisione Aspetta Devo continuare Ad arredare Tommy Arrediamolo Beh signori Switchettino su GTA No aspetta Just chatting Aspetta Doc Io switcho Grazie a tutti